CRIF è uno dei maggiori player internazionali nell'ambito delle credit e business information, a sede a Bologna ma a filiali in tutto il mondo, Europa, America, Asia. Conta un fatturato di oltre 300 milioni ed oltre 1000 dipendenti. Offre servizio nell'ambito della gestione del credito e delle business information rivolti sia al mercato banche che al mercato aziende che alle telco. La nostra esperienza nasce nel 2009 quando CRIF acquisisce DB Italia dando vita alla nuova società Cribis DMB e con essa all'esigenza di un nuovo portale per l'offerta domestica Cribis.com. Uno dei principi guida di Cribis.com è stata la trasparenza nel processo di acquisto in modo che il cliente sappia in ogni momento il costo di quello che sta acquistando. La piattaforma di accounting aveva la necessità quindi di gestire sia il pricing online ma anche supportare i processi in maniera efficiente di tutti gli altri uffici coinvolti, a partire dall'area commerciale al marketing ai gruppi di supporto e back office. La piattaforma di accounting che stavamo cercando aveva bisogno di soddisfare sia l'esigenza dell'accounting online, dell'efficientamento dei processi ma anche offrire quella flessibilità necessaria alla semplificazione e alle costumizzazioni di cui abbiamo bisogno ma anche alla robustezza per gestire gli oltre 15.000 clienti del portafoglio Cribis DB. Serviva quindi una piattaforma affidabile con un team affidabile e il sistema di billing era già consolidato in CRIF da oltre 10 anni.